La palla termina tra le braccia del portiere. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. C'è spazio per ripartire. Cerca la porta! Smenta bene questo attentativo al portiere. Palla in area di rigore. E c'è un gol pazzesco, al volo! Rivediamo il corner dal quale scattolito un gol, eccolo. Ha poi fatto rimbalzare la palla prima di confiare. Non smetti dal confuso di livello. Gara che si chiude con il risultato che sorride la formazione ospite. Questa è una vittoria netta, eh? Di là del risultato. L'approccio alla partita è stato ottimo. L'atteggiamento, lo spirito giusti hanno conquistato un successo che non è mai stato.